Ve lo avevo anticipato ed ecco qui Thomas degli Zero Assoluto che accolgo con un bentornati Ciao, grazie, grazie Stiamo suonando tutti i giorni Psicologia Sociale, la vostra nuova canzone e c'è già una cosa che ti voglio chiedere subito Ho letto una cosa che mi ha molto colpita, una cosa che avete detto voi e cioè che l'estate è l'unico momento dell'anno nel quale chi siamo e cosa facciamo coincidono, mi è piaciuta molto questa cosa Esattamente, ho sempre la sensazione che d'estate riusciamo a rivelarci per quello che siamo ma non perché magari non è una questione di vacanza e basta, è proprio una questione di attitudine anche se siamo in città, anche se non siamo in vacanza, il concetto, la vacanza aiuta ma il concetto è proprio che a un certo punto uno stacca dalla quotidianità ed è una quotidianità che è fatta magari di compromessi, di convenzioni che applichi e invece poi a un certo punto te ne liberi, sei finalmente felice e poi arriva la fine dell'estate e ti dici vabbè adesso torno a essere quella versione opaca di me Ecco, stavo per dire io sbiadita, penso un po', tu hai detto opaca ma siamo lì cioè l'estate è più uno stato mentale più che prettamente climatico C'è un senso di libertà diverso, un po' come se, diciamo probabilmente ha a che fare con quegli equilibri e quindi quei compromessi che invece magari la tua qualità ti impone e non te ne accorgi te ne accorgi soltanto quando ti ne liberi e ti accorgi di quanto era il paragone, cioè il compromesso di quanto in realtà tu ti stessi trattenendo, no? E questa cosa qua a volte secondo me è una sorta di psicosi di massa Sì sì, sai cosa? Mi hai fatto venire in mente due cose intanto il fatto che forse ad estate noi riusciamo a guardarci dal di fuori perché nella quotidianità presi da quello che dobbiamo fare non è che noi ci fermiamo tante volte a riflettere su chi siamo anche perché se ci dovessimo fermare spesso e chiederci chi siamo forse questo cammino verrebbe molto rallentato o forse migliorerebbe, punti di vista Questa è una bella domanda, non so, sicuramente migliorerebbe sicuramente migliorerebbe e poi viverebbe il tempo di fermarti c'è anche chi ha paura di farsi alcune domande e forse veramente un'estate ti ci mette di fronte al fatto compiuto perché ti rendi conto a un certo punto che con una nostalgia anticipata che cavolo wow, questo qui dovrebbe essere, questo dovrei essere io sempre questo infatti era, lo spunto di relazione era questo qua un po' no? Nostalgia è la parola chiave obiettivamente e mi è fatto venire in mente anche un'altra cosa a un concetto che non esiste più perché in effetti le stati sono molto cambiate proprio in 40 anni si è stravolta l'idea dell'estate e della vacanza soprattutto è uscita la parola dal nostro gergo di villeggiatura facciamoci caso giusto? Ti viene anche da ridere che si pensa agli anni Ottanta la villeggiatura non esiste più cioè il concetto di spostarsi da un luogo all'altro e starci per mesi negli ultimi anni le vacanze sono qualcosa di mordi e fuggi cambia nella psicologia sociale della vacanza? Forse sì, può essere guarda la villeggiatura non ci avevo mai pensato effettivamente mi è mai soffermato effettivamente credo che l'etimologia abbia a che fare con forse con il fatto che col villaggio presumo sì non lo so, boh sì esattamente però diciamo forse anche la globalizzazione oppure questa nuova fruizione così ampia e così anche a volte economica ci permette di fare certo un certo tipo di percorso diverso una volta quando io ero più piccolo andavo da una parte in Sardegna nello specifico il mio padre è sardo e andavo lì per tre mesi era il top oggi effettivamente mi pianifico 4-5 viaggi contemporaneamente a agosto farò qui poi vado qua poi me ne vado qui là effettivamente non so dirti se è meglio o peggio no ma infatti sai io non la metterei infatti su un piano di meglio o peggio perché di fatto se si fa la nostalgia se la vivi così veramente diventa un masso schiacciante si cambia cambia la società cambiamo anche noi è cambiato quando ti raccontavo scusami il discorso di quando ero più piccolo magari me ne stavo per tre mesi in un posto e non ti nascondo che magari mi annoiavo anche però ho una nostalgia di quei di quelli estati come fossero diciamo indelebili e beh perché sono sono legati anche a quell'era dell'infanzia che noi ricordiamo sempre come spensierata poi in realtà se torniamo indietro bene bene con la memoria le nostre arrabbiature le abbiamo avute anche da bambini esatto esatto in realtà non era tutto rosa e fiori però comunque alla fine si cresceva si imparava ci si iniziava a scontrare no? non so io in questo senso purtroppo ho un debole per la nostalgia e la malinconia in generale e quindi sfondiamo una porta aperta assolutamente nella nostra musica si sente da sempre in realtà ecco bisogna dirlo questo vi appartiene da sempre i tempi cambiano ma la vostra capacità anche di raccontare le cose semplici è quello che vi ha sempre caratterizzato la vostra capacità di osservare anche il mondo si ce l'abbiamo sempre avuta abbiamo sempre avuto quest'occhio di riguardo verso il passato in generale e verso questa non so quest'animo un po' malinco nostalgico no? che in qualche modo ma forse ma forse non lo so poi lo sai che la musica per me almeno è uno sfogo ognuno sceglie del suo modo c'è chi magari fa sport c'è chi sceglie l'arte in una forma diversa per noi era la musica quindi la musica per noi era l'occasione di ricordare di rimpiangere oppure magari di crogiolarsi e lo facciamo sempre e ci sta ci sta assolutamente senti però a settembre pensando alla prospettiva so che ripartite anche con un nuovo progetto che è una cosa che personalmente sto aspettando beh parliamo di guarda in realtà diciamo questa canzone anticipa l'inizio di un tour di una lavorazione che abbiamo un po' rallentato negli ultimi anni mettici tutte le varie pandemie di mezzo ovviamente allo stesso tempo ci è stata utile anche per non lo so per fermarci uno si ferma anche un po' per analizzare riguardare migliorare e anche un po' per guardarsi come detto tu dall'esterno e io un po' a un certo punto l'ho fatto effettivamente e mi sono accorto di quanto mi mancasse fare la musica tanto perché poi comunque il tempo passa e si cambiano le abitudini banalmente Matteo vive a Milano e io a Roma sono già cambiate tantissime cose certo però diciamo poi alla fine appunto le pause ti fanno anche riflettere ti fanno anche mancare e quindi eccovi qua eccovi qua quindi bentornati e intanto grazie per questo anticipo che mi fa sentire un bel sapore in prospettiva noi non vediamo l'ora di tornare a fare concerti effettivamente che è la cosa che più ci lega alle persone perché abbiamo fatto guarda andiamo verso il migliaio di concerti quindi è una di quelle cose che c'è sempre stata fissa nella nostra vita e da due o tre anni invece era in pausa che effettivamente ci fa strano ma ci fa strano probabilmente anche fare le vacanze nel senso che per me fare capodanno era sempre un'assurdità come a ferragosto mi sono mai posto cosa farò a capodanno è bravo suono esatto ovvio e scontato esattamente mi trovo in quelle situazioni assurde oddio ma che farò ti dirò che gli ultimi capodanni che mi sono fatto forse mi sono andato a letto presto e ti giuro che te lo consiglio perché poi c'è tutto no no guarda ti stai rivolgendo alla persona sbagliata perché l'ho fatto anch'io proprio in questi ultimi due anni secondo me è quasi una forma di rifiuto di normalizzazione il bisogno della normalizzazione oltre che della normalità Thomas grazie per questa chiacchierata e a presto a questo punto va bene